Kate Moss è incinta o ha solo dei fianchi più rotondi? All'inaugurazione di un nuovo negozio Top Shop di cui è testimonia la New York, la top model britannica è stata fotografata con una pancetta sospetta che ha messo in allerta il quotidiano tedesco Build nella sua edizione online. La modella 35enne indossava un abito verde acceso quando è stata immortalata in forma smagliante, ma con una pancia un po' meno piatta del solito. È un segno che preannuncia un lieto evento o è forse solo un abito tagliato male? Si chiede il tabloi di Springer, ricordando che già a febbraio erano circolate indiscrezioni su una presunta seconda gravidanza della Moss, smentita con forza dall'interessata. Non è incinta e solo è ingrassata, avevano precisato i suoi portavoce. Vediamo cosa diranno adesso.